Il giro del gelato Questa mancetta! Che dica l'ombra? Vieni! Ehi! Ehi! Adio! Ma che ti fa male la pizza? Dopo comincia a parlare il napoletano, il casino non ti capisco più eh! Ma le cilipresa qua, eh? Sì! Tieni giù anche... Per il whisky, guardate! Boom! Oh, ecco, tutta la mia brava il whisky qui! Ecco, ecco! Ecco, ecco! E si tratta però eh! Non bisogna dire dentro lì nella microfonia, secondo me la moglie mi canna di vedere il filmato quindi... Ah, ma allora stai bene anche il bianco quando vai a cavallo! Non è cedratta quella lì! Non si sa mai eh! E non puoi girare le spalle però, perché se no ti è poi male a dire! Ma la pizza è il bianco! Il lato B va bene, però... Lei è la ragazza del salù! La ragazza del salù anche! Mi fanno un po' di cocco, lei non vuole la cazza del salù! Alla fine! Eh! E' un po' di cocco! Beh, non c'ho mai! Ma che cosa? Il è un dettagliato, il è un dettagliato. Non è un dettagliato. Non è un dettagliato. Perché il è un succhiato. Vattra, ci siamo. Voi, vieni. 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 No, no. Con quel cappè, come te stai bec. Oh, stai bec, con quel cappè. Vieni. Guarda il sole, anima. Prendi qualche colpo di sole, diventi il balone, il colto padron, la prima volta. Indur. Vieni in famiglia. Eccoci quel cappè. No. Non c'è ne più patatine. Ehi. Mangiale sì. Ho già messo un po' di cucina. Oh, va. Ah, è. Oh, va. Oh, va. Oh, va. Grazie a te. Tiene via il tavai. Da sotto, qua. Eh, di via. Vieni. Sulla porta. Grazie per la visione!